eccoci siamo live continuano le dirette sui vincitori del Giro d'Italia del venerdì sera ormai siamo ai sgoccioli di quello che sarebbe dovuto essere il Giro di quest'anno 2020 almeno calendario normale stasera abbiamo un altro ospite, decezione allora ha vinto due Giri d'Italia, un Giro di Romandia, due Giri del Trentino, in totale 20 vittorie in carriera, stiamo parlando del falco, Paolo Savoldelli eccolo qua buonasera a tutti eccolo qua, ti vediamo bello in forma Paolo, ma sembra quasi che in bici ci vai ancora dalla brutta la faccia bella tirata ma più che bici vado in montagna adesso sì, sarebbe ora di iniziare ad andare in bici, ma col fatto di questo lockdown, due mesi fermo, ci sono un sacco di cose da recuperare, da sistemare e allora quello viene un po' dopo, però la bici tra l'altro poi non perdona, se ti alleni ti dà anche soddisfazione, se non ti alleni ogni volta che vai è la prima, bisognerebbe riuscire ad andare almeno tre volte alla settimana, allora vedi dei miglioramenti e ti senti meglio, ma se vai anche solo una sola volta alla settimana ogni volta riparti da capo fa penare a capire, mal di schiera mal di sedere, mal di gambe, è tutto nuovo ogni volta è deprimente comunque davvero, perché uno dice ho fatto una vita correre in bici dai tre pedalate, anche se sto tre mesi senza andare, appena ricomincio vado, non come prima ma quasi invece, no, purtroppo ma io per quello quando vado, vado abbastanza bene riesco a fare le salite, anche perché qui da me ci sono un sacco di salite il problema è proprio che il giorno dopo non recuperi perché non sei preparato, fai di più di quello che devi fare, perché ovviamente magari la forza ce l'hai ancora e poi ovviamente l'allenamento non lo sostituisce nessuno, cioè l'allenamento è quello che fa la differenza e quindi se ti prepari e ti alleni, bene, se no soffri sempre è così, non c'è niente da fare ascolta Paolo, noi partiamo subito parlando ovviamente del 2002, dove quando hai vinto il tuo primo giro d'Italia però prima la mia domanda era riguardo al fatto che hai fatto quattro anni in una squadra importante come la Saeco in cui hai vinto il giro di Romandia e hai fatto un secondo al giro come mai nel 2002 sei passato in una squadra più ridimensionata, più piccola come la Index Alexia? Ma allora diciamo che avevo fatto una brutta caduta al terzo anno della Saeco nel 2000 e per due anni ho avuto dei problemi sempre alla schiena e così non riuscivo più a trovare una dimensione anche psicologicamente facevo fatica andavo bene un giorno poi il giorno dopo non andavo bene la Saeco prese Simoni io ebbi delle offerte dovevo andare in un'altra squadra non dovevo andare alla Index Alexia poi questa squadra cambiò idea ci furono dei problemi allora in Estremis accettai l'accordo con questa piccola squadra dove però era una piccola squadra c'era però un bravissimo direttore sportivo era la sede era a Bergamo e diciamo che è stata un po' la mia fortuna perché ovviamente per la prima volta sono riuscito a correre nella stagione per preparare il Giro d'Italia perché negli anni precedenti alla Saeco invece non facevo così chi era già il direttore sportivo? che non mi ricordo adesso Giovanni Fidanza ah è stato anche mio direttore sportivo un po' di anni dopo bravo Fido sì Fidanza era una bravissima persona riusciva a creare gruppo in quella squadra c'era Ivan Quaranta che era il velocista che dava delle grosse soddisfazioni anche se quell'anno non andò molto forte la squadra era quasi più imperniata su di lui perché dovevano cercare di portarlo all'arrivo perché in salita faceva molto fatica era credo il primo del gruppo che si staccava e era un pistard puro una grandissima classe ma probabilmente la vera vita del ciclista non sapeva cosa cosa era è uno che quando è riuscito ad allenarsi a fare la vita ha dato filo da torcere a Cipollini aveva 70-80 metri nel finale dove aveva un guizzo pazzesco in salita però andava veramente piano cioè su un cavalcavia perdeva contatto aveva vinto però parecchie tappe al Giro d'Italia era anche un bel personaggio io mi trovavo quasi sempre da solo anche perché loro dovevano si trovavano in certe situazioni dopo 60 km una salita 40 si staccava da solo e tutta la squadra si fermava ad aspettarlo e facevano 100-150 km in 5-6 per non farlo andare fuori una crono squadra per salvarlo praticamente sì 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 e quell'anno poi i 40 si ritirò e da lì poi la squadra iniziò un po' a cercare di fare dei risultati e via dicendo ma tornando al discorso di Fidanza Fidanza mi disse a noi interessa il Giro d'Italia è l'evento più importante essendo una piccola squadra non abbiamo la possibilità di fare neanche certi tipi di corse tu fai tutto quello che devi fare per prepararti per quell'obiettivo corsi un po' di meno andai in altura ad allenarmi e arrivai al Giro d'Italia pronto per fare un risultato poi vincere ovviamente non me l'aspettavo neanche io perché non è una cosa molto semplice soprattutto nel finale di quel Giro tu hai raccolto un po' di dati alla 17esima tappa Corvara-Folgaria la classifica era questa Alan si vuole leggerla a te perché è impressionante allora c'era Cade Levas in testa Cade Levas che correva in Mattei Frigo secondo a 16 secondi poi c'era terzo Tyler Hamilton a 18 secondi quarto Hitler González González a 24 Cacchioli quinto a 32 e poi c'eri tu sesto a 48 secondi quando si dice classifica corta in classifica corta c'era stata una tappa al giorno primo molto lunga 200 passachilometri che aveva vinto per Squapio io avevo fatto secondo quel giorno ci fu una tappa molto molto lunga con l'arrivo a Folgaria che è una salita infinita una salita molto dura anche in precedenza un caldo anormale e praticamente il giorno prima si erano andati veramente forti quel giorno lì si è andati forti ancora tutto il giorno nel finale ci sono state un sacco di crisi inaspettata di Cadele Evans Cadele Evans però era giovane era un grande talento ma non aveva esperienza la sua squadra aveva preso in mano la situazione e lui non si sa se per questione di tensione per questione di alimentazione comunque sicuramente tanto per questione di inesperienza è andato proprio in una crisi di fame epocale perché si ricordano tutte le immagini di lui che vacillava in maglia rosa e non riusciva più ad arrivare in cima al traguardo ovviamente un errore del genere un Cadele Evans di qualche anno dopo non l'avrebbe mai fatto Cadele Evans che poi ha dimostrato tutto il suo valore vincendo un mondiale un tour e tante altre corse a 17 minuti è arrivato quel giorno si si è proprio ricordo benissimo il momento in cui Tyler Hamilton attaccò la squadra tirava e tirava ad un bel passo io mi sentivo bene devo essere sincero mi sentivo molto bene praticamente Cadele Evans si accorgemmo che cominciava a perdere la ruota del suo compagno di squadra e Hamilton fu il primo all'inizio sembrava quasi impossibile poi quando si capì che la cosa era vera Hamilton partì io lo seguì e lo controattaccai subito perché ovviamente come avete la classifica che avete letto voi io per guadagnare secondi dovevo staccare tutti quelli prima di me a me non andava bene arrivare con Tyler Hamilton quindi ho fatto questo attacco rischiando e sono riuscito ad arrivare secondo dietro a Tonkov che era già in fuga fuga partita da lontano e a guadagnare questa maglia a rosa praticamente a tre giorni dalla fine tu calcola che io avevo una parte della squadra che era stata dedicata al Giro d'Italia per 40 avevo Manzoni che quando poteva mi dava una mano a prendere davanti le salite avevo Andreotto che mi portava qualche borraccio ma in salita non c'era nessuno che andava forte e in varie situazioni mi ricordo eravamo 30 40 corridori io ero da solo andavo a prendermi l'acqua però c'è anche da dire che io non ero il favorito di quel Giro d'Italia non essendo il favorito di quel Giro d'Italia nessuno provava ad attaccarmi perché ero da solo perché ovviamente c'erano altri corridori che sulla carta erano più forti di me e quella situazione ovviamente è stato un vantaggio altro vantaggio è stato che la Maglia Rosa l'ho presa sull'ultima tappa di montagna nelle tappe successive la squadra contava molto poco perché il giorno dopo mi sembra si arrivasse a Brescia poi c'era l'acronometro di Monticello e Brianza e poi c'era l'arrivo a Milano quindi da lì in poi gestire la situazione non era inattacabile poi dopo non ti potevano più attaccare di fatto la squadra ti poteva aiutare la tappa dopo sì anche perché il giorno dopo tappa ad appannaggio dei velocisti quindi i velocisti e squadre velocisti controllavano la corsa poi c'era l'acronometro di Monticello e Brianza e lì erano fatti i tuoi esatto lì erano fatti i miei Tali Remington mi aveva dato un bel distacco nella prima cronometro quindi non è che io fossi tranquillissimo però sai di solito alla fine di un giro d'Italia con l'azione che ho fatto io la fai per una questione di freschezza all'ultima cronometro anche se io ero un cronoman all'ultima cronometro fa più la differenza la freschezza e l'energia che hai che magari le doti infatti il divario tra specialisti e non specialisti nell'ultima cronometro si assottiglia sempre molto intanto chiedo a chi ci sta guardando siete tantissimi più di 500 di farci pure le domande che poi faremo a Paola qualcuno ha già iniziato andiamo a proseguiamo con il percorso perché adesso arrivano due anni molto particolari sì allora le abbiamo segnate la sfortuna che è 2003-2004 è successo veramente di tutto tra l'altro cambio di squadra passi in telecom poi T-Mobile a febbraio 2003 mentre ti allenavi a Tenerife cadi con uno scontro contro una moto in contromano diverse fratture anche al volto il giro ovviamente salta poi aprile 2004 nuova frattura del polso trauma cranico caduta al giro di Colonia 2004 e ti costringe a saltare anche il giro di quell'anno hai fatto veramente pochissime gare 2003-2004 ma allora di fatto il giro d'Italia io non l'avrei fatto comunque perché la telecom non c'era ancora il Pro Tour e non sarebbe venuta la telecom che era orfana di Jan Urrich nel 2003 che aveva cambiato squadra era andato alla Bianchi e che rientrò poi nel 2004 venne ripreso noi dovevamo puntare al Tour loro volevano avere una squadra molto forte per il Tour era una squadra con tantissimi campioni un grandissimo budget però dal punto di vista secondo me organizzativo così non erano secondo me molto avanti cioè sono tedeschi molto ben organizzati tutti precisi però in alcune cose sbagliavano per quanto mi riguarda non prima del Tour del feci quella caduta alle Tenerife un mese di stop rientrai forse troppo velocemente qualche corso e poi subito feci nono in casica generale al Giro di Germania tornai dal Giro di Germania e da lì andai a fare il passo del Vivione ottavo ottavo abbiamo tutti i dati precisi eh 17 giornate bravo e però ho memoria perché mi ricordavo esatto alla fine quando sono rientrato la settimana successiva andai a fare un bel allenamento il passo del Vivione che avevo fatto prima del Giro di Germania in un'ora e un minuto la settimana dopo del Giro di Germania un'ora e venti lì mi sono detto lì mi sono detto ok non ho recuperato dal Giro di Germania avevo fatto gli ultimi due giorni del Giro di Germania veramente soffrendo tanto e poi giorni sempre stanco 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 recuperi stanco 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 andai a fare la SART feci la SART facevo fatica facevo fatica facevo fatica c'era la cronometro alla SART normalmente io nella cronometro anche quando non andavo a tutta ero sempre nella prima pagina cioè nei primi 40 cioè senza andare a tutta la sera così per caso guardai il comunicato del risultato prima pagina non c'ero non ero andato a tutta però non ero neanche andato a spassi seconda pagina non c'ero terza pagina non c'ero guardo ero arrivato sett'ultimo cioè sei più piano di me erano andati anche quando ho visto questo cioè neanche al primo anno da professionista non mi è mai successo una roba così andai dal dottore della scuola e gli dissi c'è qualcosa che non va perché io in tanti anni a me non è mai succeduta una cosa del genere non l'ho fatta tutta mi sono impegnato e è impossibile allora da lì mi ritirai andai in Germania feci degli esami e li scoprirono che avevo questo virus avevo le transaminasi a 7800-900 in crescita saltò al tour l'unica cosa era il riposo e quell'anno continuavo a fare gli esami ma questo citolo megalovirus una roba del genere non mi ricordo come si chiamava però era una cosa che praticamente ti debilita molto l'anno successivo ripresi cominciavo a andare bene cominciavo a avere dei test buoni e ad un certo punto mi chiamarono per sostituire un corridore al giro di Colonia mi sembra siccome partivano solo in 6 mancava un corridore mi chiamò il dietro sportivo guarda è un Ursa in Germania possiamo partire in 6 devi venire anche tu e mi fece il biglietto all'ultimo momento e andai là io avevo ero stanco perché avevo caricato molto e così avevo già deciso di stare in coda del gruppo e di fare una corsa senza fare niente perché non era in programma e gli serviva solo per fare il numero per quella corsa vabbè fatto sta che c'era una discesa lunga mi ricordo come se fosse adesso una discesa molto veloce e larga con degli sparti traffici nel centro della strada io ero in coda sarò stato nelle ultime 10 posizioni e mi ricordai che sai quando il gruppo si apre si richiude si apre si richiude con lo sparti traffici nel centro mi ricordai di un gruppo che ha centrato in pieno il cartello che divideva lo sparti traffico e lo ha piegato e mi ricordo benissimo che quando lo ha centrato io ho visto la scena e ho pensato questo si è fatto male e lì mi sono svegliato sull'ambulanza praticamente poi mi hanno raccontato che la sua bicicletta che è volata in aria mi è entrata piena dentro nella ruota davanti e io mi sono ribaltato di faccia senza poter far nulla che figa io proprio non ricordo io mi ricordo mi sono svegliato sull'ambulanza e quando mi sono svegliato ho chiesto se ero alle Tenerife perché non capivo dovero e le Tenerife era l'incidente dell'anno prima da lì frattura del polso un sacco di problemi e l'anno è andato è andato così e praticamente ho fatto come detto voi pochissime corse e ho buttato via due anni perché quell'anno lì è fatto degli incidenti veramente assurdi perché anche l'incidente delle Tenerife l'incidente delle Tenerife io scendevo in bicicletta ero il primo della squadra praticamente poi abbiamo scoperto che su quella salita i motociclisti il sabato facevano la gara fra di loro nel salire praticamente questo tizio spagnolo che si chiamava Pedro stava a gara con un altro motociclista è arrivato lì in curva ha guardato non ha visto nessuno e ha tagliato la curva sfiga vuole che c'era un pinettino piccolo e nel momento in cui lui ha guardato io ero dietro questo pinettino quando è uscito io l'ho visto arrivare quando è uscito dalla curva io ero tutto dalla mia parte del garello a destra non mi potevo buttare allora mi sono buttato a sinistra solo che si è buttato anche lui dalla mia parte e l'ho preso in pieno e lì lì sono stati sono stati parecchi parecchi problemi è andata bene ho rotto la parte finale di due etne spinose ci ha voluto un po' di tempo per ripresi però la fortuna è stata che ero in una grossa squadra che non ha mai creato dei problemi aveva visto cos'era successo però sono stati due anni veramente dal vincere il giro di mania non ho quasi più corso anche perché appunto tu hai vinto il giro nel 2002 l'hai vinto nel 2005 quindi due anni che di fatto hai perso e hanno forse anche due più più promettenti più importanti della tua carriera a livello di performance fisica quindi è veramente un peccato poi avesse successo per cose così quello che pensavo io Giorgio è il fatto da quanta forza mentale hai avuto in questi due anni perché alla fine succede uno dice vabbè uno può succedere poi due tre comunque una serie di codi circostanze veramente sfortunati tutte concentrate in due anni c'è anche il rischio di perdere proprio la voglia anche di correre comunque di abbandonarsi un po' se stessi io ho qualche problema nel sentire adesso non so se voi avete la linea tutto a posto ma sentivo molto a colpi questa prima parte ti abbiamo perso un attimo stavo dicendo della forza mentale che hai avuto per tenere duro in quei due anni perché alla fine quando succedono tanti episodi negativi uno attaccato l'altro tutti concentrati in due anni c'è anche il rischio di lasciarsi andare di non credere più in niente ma ovviamente quando succedono queste cose molto attenti anche dal punto di vista psicologico bisogna riuscire a non perdere la calma anche perché poi ripartire nel ciclismo è molto difficile come voi ben sapete quando riparti da zero la strada diventa molto lunga parecchio ma invece in discesa non avevi paura quando sei ripartito perché a volte capita uno cade si fa male anche più volte e non riesce più ad avere quella confidenza quella abilità che aveva magari precedentemente perché ha paura tende a tirare i freni tende ad essere un po' più rigido a te non è successo questo beh ovviamente quando ti capita qualcosa quando ti capita qualcosa c'è una memoria sull'incidente io per un po' di tempo dopo l'incidente di Tenerife quando sentivo una moto arrivare dietro di me rimanevo un attimo irrigidito e ovviamente però se vuoi continuare a correre poi queste cose le devi superare sai avete corso in bicicletta e quindi gli imprevisti ne succedono un sacco gli imprevisti ne succedono un sacco e se comincia ad avere paura è finita quello è poco ma sicuro voltando pagine in tutti i sensi andiamo al 2005 cambio di squadra passi dalla squadra di Ulrich alla squadra di Armstrong quindi un salto proprio netto in quegli anni alla Discovery e come è andata come si è arrivato al giro e cosa è successo in quell'anno lì ma allora lì nel 2005 è nato il Pro Tour la Discovery non era mai venuta al giro voleva avere un corridore per ben figurare al giro d'Italia rimaneva ovviamente sempre il Tour de France il primo obiettivo Armstrong era l'ultima stagione ciclistica perché aveva già dichiarato che in quel Tour de France alla fine del Tour de France avrebbe smesso di correre andai con loro ma anche quell'anno ebbi un problema perché mi scoppiò un copertoncino in America e ruppi la clavicola nel mese di febbraio eccellente superato molto velocemente mi sentite? sì 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 ti sentiamo ti sentiamo bene è un po' un po' bloccato vogliamo provare a uscire a uscire e rientrare non so no no ti sentiamo ti sentiamo perfettamente sono dei momenti in cui ti perdiamo un attimo ma quando parli poi ti senti tranquillo tranquillo e riguardo Paolo riguardo a quel giro c'è una tappa che è rimasta nella storia forse una delle più belle degli ultimi 50 anni te la ricordi quale è stata vero? sa che ci sente male anche a noi ci sente male si è proprio rallentato tanto Paolo io vi sento a colpi credo che voi sentiate a colpi me io sento a colpi voi probabilmente c'è la connessione non buona ma noi in realtà ti sentiamo bene Paolo quindi se vuoi parlare vai pure che ti si sente bene tu chiedi ripetiamo la domanda però noi ti sentiamo sempre mi senti Paolo si ti sento sempre a colpi stavo dicendo che c'è stata la tappa di quel giro 2005 che è stata una delle più belle forse degli ultimi 50 anni di giro d'Italia te la ricordi quale è stata? era la Savigliano Sestrier e si correva si percorrere a colpi Sì quell'anno è vai vai primi quelli che passarono trovarono una strada molto buona so che già però quelli che passarono in coda la trovarono già in condizioni un pochino più difficili ero ero alla fine di quel giro d'Italia ero stanco c'era Simoni che era più forte di me in salita avevo due minuti e otto secondi mi sembra di vantaggio su di lui eravamo al penultimo giorno e tutti io avevo tutto da guadagnare nel mantenere la calma e loro avevano tutto da giocarsi per cercare di ribaltare il giro d'Italia Simoni ovviamente sapeva di essere più forte di me in quella giornata io tra l'altro non stavo benissimo avevo avuto grossi problemi di allergia un problema che ha attaccato un po' la parte finale della mia carriera e Simoni Basso specialmente fece la corsa molto dura poi non fu all'altezza della situazione fu quel giro d'Italia dove Basso ebbe quella crisi dalla maglia rosa perse paracchi minuti con sullo Stelvio e Simoni andò via tutti pensarono che io fossi in crisi ma io non mi staccai perché ero in crisi mi staccai perché il pass loro avevano era troppo forte per me mi avrebbero fatto saltare e io non dovevo cadere in quel tranello mi ero creato molto bene anche quell'anno comunque in montagna rimanevo da solo perché la squadra più forte era la squadra che partecipava al Tour Dance per Armstrong e riuscii a gestire bene quella salita Simoni trovò degli alleati davanti e io trovai degli alleati dietro e riuscii a vincere poi quel giro d'Italia per soli 28 secondi prima è stata una cosa molto difficile da ottenere perché di energie non ce n'erano veramente più però sai la maglia rosa ti dà una forza e una grinta quando ce l'hai non la vuoi lasciare nessuno alla fine hai vinto con 28 secondi il giro d'Italia hai tenuto dura hai fatto anche una discesa delle tue perché hai fatto una bella discesa avevi guadagnato tanto lì giù dalle cose delle finestre ma diciamo che in discesa io recuperai un po' ma la prima cosa era non perdere i corridori che avevo con me perché dalla fine della discesa arrivare in cima al 6-3 c'era una strada molto veloce e da solo non andavi da nessuna parte quando sono sceso già in fondo mi ero riappropriato della maglia rosa perché aveva recuperato parecchi secondi davanti Ruano rimase sulla ruota e lottò per vincere la tappa Di Luca che aveva dato per Simoni tirando a tutta ebbe i crampi e saltò e Simoni si trovò da solo e ovviamente quello che avevano dato prima non riuscirono più a dare dopo loro dovevano rischiare tutto per tutto io invece non dovevo sbagliare loro hanno fatto bene a far così e io nel senno di poi ho fatto bene a far così ma è stata dura perché poi alla RAI hai dichiarato anche oggi avrò perso dieci anni di vita la tua dichiarazione ho tagliato il traguardo e ho detto oggi avrò perso dieci anni di vita e quindi adesso ne ho 40 e te come se ne ho 57 no è stata una veramente difficile anche perché era parecchio li porto bene dai li porto abbastanza bene però c'è da dire che una tappa come quella era una tappa veramente difficile per me e non avendo gregari che mi rimanevano vicini il gregario che mi doveva aiutare era Tom Danielson che però al decimo dodicesimo giorno si ritirò per un problema al ginocchio e quindi in montagna non avevo nessuno che mi poteva aiutare c'era comunque Basso e Simoni che erano i fari di quel giro d'Italia c'era anche Cunogo c'erano parecchi corridori quando le cose però sono state molto più difficili perché tutti sapevano che non avevo una grande squadra in salita a diversità del primo giro d'Italia dove presi la maglia praticamente alla fine qui la presi a otto giorni dal termine e tutti i giorni si faceva la corsa dura anche nelle tappe non impubili con dei su e giù c'erano sempre degli attacchi perché mi volevano isolare dovevo intervenire io in prima persona andando a inserirmi nei gruppetti per far sì che poi la squadra non si trovasse in difficoltà ricordo proprio la tappa dello Stelgio quella della crisi di Basso quando sulla prima salita continuavano ad attaccare attaccare a ripetizione io sono rimasto subito senza compagni di squadra l'ultimo che mi rimaneva davanti era Padernos e cosa facevo quando andavano via più di sette otto ore entravo io di modo che tutti dovevano seguire questi e non potevano andare finché poi andò la fuga fuga che guadagnò circa tre minuti ad un certo punto arrivarono i gregari a dirmi cosa facciamo dentro c'erano dei corridori pericolosi quella fu una mia decisione molto importante che ha deciso il Giro d'Italia perché Corridori della Selle d'Italia che poi arrivò terzo in quel Giro d'Italia era in quella fuga a un certo punto io pensai allora se risparmio la squadra tanto alla fine dello Stelvio non ci sarà nessuno quindi alla fine li ho fatti fare a tutta ho risparmiato solo Padernos sperando che riuscisse a Stelvio ma si staccò a tre o quattro chilometri dalla cima e io in maglia rosa da cinque chilometri dalla cima dello Stelvio fino al Vigno praticamente da solo comunque tu hai preso la maglia alla tredicesima tappa quindi hai fatto una buona parte di giro sempre con la paura di imboscate perché insomma avevi capito che volevano isolarti è stata tosta non è che l'hai presa la maglia a tre tappe dalla fine alla tredicesima ce n'è da fare c'è una settimana abbondante quindi insomma tanta roba sì non è stato semplice non è stato semplice per nulla perché poi sai sapendo che non avevo la squadra avevo già vinto un giro d'Italia e non mi potevano sottovalutare e quindi cercavano sempre di fare la corsa dura basso era andato fuori dai giochi perché con quella crisi aveva perso un sacco di minuti poi però riuscì ad avere la coronata e un'altra tappa di montagna e gli altri corridori ovviamente quando c'era una salita si faceva sempre a tutta sempre a tutta perché in bicicletta quando il leader della corsa è più forte di tutti tutti lo sanno e quindi prima di fai la corsa dura fai il suo gioco io non ero lo scalatore più forte perché non ero un passista scalatore e quindi ovviamente loro cercavano di sfiancarmi esatto comunque abbiamo un tuo ex compagno di squadra Paolo Riccardo Chiarini recuperarlo l'ho visto anch'io te lo ricordi il chiaro? anche mio ex compagno di squadra Riccardo Chiarini ci chiede Savo raccontaci un po' il tuo ultimo giro d'Italia invece nell'EPR se ricordo bene sì io ho l'ultimo giro d'Italia e l'ho fatto nell'EPR Chiarini tra l'altro era un corridore molto giovane molto grintoso sempre all'attacco ci furono un po' dei problemi in quella squadra perché correvano un po' da dilettanti io ero abituato a correre in squadra dove si correva per vincere e lì invece in una parte della corsa della gara si correva per far vedere la maglia che era in fuga quelle fughe inutili dove ci sono tre persone che stanno là davanti tutto il giorno poi quando il gruppo decide di andare a riprenderle si vanno a riprendere e per me arrivare in fine carriera correre in squadra con quella mentalità non fu sicuramente una cosa facile ero stanco ovviamente ho fatto parecchi anni a fare giro e tour quindi le fatiche si facevano sentire però trovai un gruppo di giovani come Chiarini i bailetti e via dicendo molto simpatici che sicuramente mi diedero una mano con il morale penso di avergli insegnato qualcosa ovviamente facevo errori grossissimi errori che però anche io quando ero giovane facevo alla fine ho comunque un bel ricordo di tutti quei compagni di squadra perché ci siamo divertiti c'era anche Di Luca in quella squadra che a un certo punto rischiò anche di vincere il Giro d'Italia a parte il discorso organizzativo e via dicendo che ovviamente era con un budget di una piccola squadra e quindi le cose erano cambiate parecchio era stata una bella esperienza e vedere tutti questi giovani che lottavano che andavano in fuga guarda mi ricordo una volta una discussione con il manager della squadra c'era una fuga davanti c'era un po' dietro a un certo punto Carini mi sembra proprio lui uscì da dietro per rientrare davanti chiaro da dietro è partito da solo ma non riusciva a rientrare davanti e è stato lì a Bagnamaria per 10-20 km e io sentivo alla radio che gli dicevano è chiaro vai a tutta vai a tutta vai a tutta e io alla radio gli dicevo ma chiaro vai fermati e dalla radio il manager gli diceva no no vai a tutta vai a tutta non rientrai vai a tutta anche io non dissi più nulla perché non è d'accordo però il manager della squadra ha dato queste indicazioni bordonali si può dire però purtroppo chiarini non riuscì a rientrare il povero chiaro 20-30 km di Abagnomaria quando lo riprende si staccò e tutte quelle energie non servirono al termine della tappa venne nella mia camera il manager che mi disse guarda Paolo che io lo sapevo che chiarini non sarebbe entrato ma ho voluto fargli far questo perché così capiscono come si devono muovere e cosa devono fare dopo che lui avesse capito che chiarini non potesse rientrare su questo erano dei forti dubbi ovviamente nel senno di poi dovete venire a giustificarsi da me perché io in corso avevo dato delle indicazioni diverse poi era successo quello che avevo previsto io quando un corridore è a fine carriera ovviamente ha un'esperienza dove e ha sempre corso in squadre che corrono per vincere non per il piazzamento per far vedere la maglia ovviamente vede le cose in un altro modo esatto è così decisamente Paolo ci chiedono un pochino se puoi Andrea Marcangio se puoi parlaci della tua esperienza personale avuta con Armstrong soprattutto immagino nel 2005 dove gli hai fatto l'aggregare al suo ultimo tour allora io vi sento molto male ci sento a cui faccio far dire le domande se sono io se è la mia connessione o se siete voi noi ci sentiamo sempre probabilmente la tua connessione prova a fartela piano così magari non perdi i pezzi ci chiede Andrea Marcangelo se puoi parlaci della tua esperienza personale avuta con Armstrong tu parla pure anche se ci senti male perché noi ti sentiamo bene e sentono tutti bene quello che dici si è messi male qua con la connessione allora mi sembra di aver capito che mi sentite adesso adesso sì allora mi sembra di aver capito che mi chiedono che rapporti ho avuto con Armstrong esatto allora c'è da dire che con Armstrong ci ho corso praticamente qualche mese perché poi alla fine di quel tour del 2005 lui smise di correre ho fatto però vari ritiri con lui era una persona molto piena di sé era molto carismatico ed era una di quelle persone che credo l'unica che ho conosciuto nella mia vita più problemi aveva e più forte andava cioè più lo attaccavano più cercavano di metterlo in difficoltà più piccavano sui giornali e lui diventava sempre più forte per dimostrare chi era per dimostrare come era forte e via dicendo ricordo che un giorno Brunel venne e ci disse mi raccomando se sentite qualcuno che parla male di Lenz andateglielo a dire lui disse ma come mai è perché Lenz poi si arrabbia si carica e va più forte di prima era comunque una macchina da guerra sia psicologicamente che fisicamente ovviamente aveva acquisito con il tempo una sicurezza nei propri mezzi e sapeva di essere il forte nel 2005 vinse il tour tenne mi sembra la maglia 16 o 17 giorni la maglia gialla so che noi come Discovery che avessimo la maglia o che non avessimo la maglia dovevamo tirare sempre noi perché tutto il gruppo sapeva che lui era nettamente più forte l'anno faceva quello che voleva aveva un'utilità e imbazzante abbiamo una domanda di Niccolò Baldi molto interessante cosa ti piace e cosa non ti piace del ciclismo attuale e quali ciclisti della nuova generazione rispecchia il tuo spirito sprogiudicato Van der Poel così ci danno un input puoi ripetere la domanda? allora cosa ti piace e cosa non ti piace del ciclismo attuale? non riesco a capire cosa ti piace e cosa non ti piace del ciclismo attuale? cioè cosa mi piace e cosa non mi piace del ciclismo attuale? esatto ma allora diciamo che il ciclismo attuale è diventato sempre più internazionale è diventato sempre più tremo i corridori devono fare sempre più sacrifici perché niente viene lasciato al caso diciamo che c'è forse un po' meno spettacolo in certe situazioni perché i livelli sicuramente pareggiati non mi piace il fatto che siano delle squadre che quando si mettono in testo uno è più in grado di attaccare perché il passo che loro riescono a fare controllando tutto con il monitor di potenza e con tutta la tecnologia è talmente alto che i corridori che i corridori che devono attaccare il leader di questa squadra non sono in grado di muoversi non mi piace il fatto delle radioline che sono diventate praticamente usate da tutti e che tolgono un po' di fantasia dai corridori è un ciclismo un po' radio guidato mi piace comunque il fatto che è diventato un ciclismo più internazionale e ci sono dei protagonisti che sanno veramente dare spettacoli che sono capaci di lavorare con i social e via dicendo e che riescono a coinvolgere tanta gente nel mondo del ciclismo che magari in precedenza non si affacciava perché non era magari uno sport così così visibile giusto ovviamente sei diventato famoso nel mondo del ciclismo anche perché sei probabilmente uno dei più grandi ricesisti mai esistiti famoso il Colle Faunira del 98 tu adesso rivedi nel ciclismo attuale un corridore che va forte come te o quasi in discesa ah sai che ci vuole l'alfabeto mutuo si è bloccato un pochino si è frizzato no peccato perché gli avrei fatto domande fino a domani a Paolo eh però ti sentite sì ti sentiamo di nuovo no scusate ho provato a togliere il wifi di casa no vabbè ma la portiamo a casa lo stesso tranquillo è un po' più lento però ce la facciamo ti rifà la domanda Giorgio mi senti Paolo mi senti sì ti sento ok però sempre a colpi nel ciclismo attuale vedi un corridore forte come te in discesa o quasi considerando che sei stato uno dei più forti discesisti di tutti i tempi mi viene in mente Bonifazio della Sanremo ad esempio non riesco non riesco non riesco a sentirvi faccio fatica così è proprio talmente il vuoto che non capisco ho tolto anche il wifi di casa adesso il 4G ma è il problema adesso che non sia mio eh ci può stare comunque può succedere la domanda era sulla la discesa no che tu sei stato uno dei migliori e se tu vedevi un altro corridore moderno che un po' ti assomiglia a livello di doti in discesa prettamente anche in discesa allora per quanto riguarda la discesa è sempre stata una dote che ho avuto fin da piccolo eh nelle categorie da junior quando si è cominciato a fare delle più veloce più lunghe mi sono conto che potevo fare la differenza quando poi sono passato professionista dove c'erano le grandi montagne e via dicendo ovviamente con queste doti sono riuscito a compensare quanto perdevo magari in salita in alcune occasioni quando la tappa permetteva è diventata un'arma vincente che mi permette di capovolgere il risultato della tappa tra l'altro abbiamo eh oltre vabbè ci sono tanti valedicesisti però in Italia abbiamo soprattutto Nibali che ha sempre fatto vedere ad avere delle doti eh abbastanza fuori dal comune un pochino sopra la media se ti è piaciuto Nibali come come scendeva come lo consideri non ho capito bene la no dico di Nibali stavamo parlando di Nibali che Nibali era stato un altro eh discesista quasi al tuo livello adesso molto forte tu come come lo consideri Nibali a livello di come discesista come vabbè atleta non si discute però come discesista allora Nibali va molto forte in discesa però non fa la differenza che facevo io lui va molto più forte di me in salita cioè lui scolina primo anche in cima la salita poi che è una bella differenza io scolina tra il quarto quinto sesto e lui in discesa poi magari incrementa incrementa un pochino io l'ho seguito anche quando lavoravo alla Rai con la moto e lui non ha una guida moltita aggredisce le curve e infatti col bagnato in certi casi cade spesso proprio perché questa sua guida è molto molto aggressiva io avevo una guida completamente diversa dalla sua io quando ho seguito con la moto della Rai mi faceva paura lui perché mi rendevo conto che era uno che andava un po' oltre il limite non avendo questa guida pulita i rischi diventano diventano tanti però Nibali ha magari incrementato qualcosa ma non ha mai ritratto una corsa con la discesa abbiamo Manuela che ha già scritto 4-5 volte non abbiamo mai ecco leggila tu Brambo te la metto anche in sovra in pressione Paolo se riesci a leggerla allora ciao Maranga e Brambo ovviamente anche Paolo qual è stato il tuo più grande rivale Simoni Pantani Garzelli o altri ma sicuramente il rivale più grande per me è stato Simoni perché in quegli anni Simoni si è dimostrato il più forte in salita era un corridore che andava sempre forte tra l'altro è arrivato 7-8 volte sul podio del Giro d'Italia è quello che ha fatto un po' il punto di riferimento di quegli anni al Giro d'Italia ha vinto due giri due secondi e tre terzi mi sembra che comunque non è una cosa da poco direi di no con Pantani invece visto che Pantani abbiamo nominato più volte in queste dirette con i campioni con chi ha vinto il Giro hai avuto modo di conoscerlo un po'? allora Pantani era un fuoriclasse quello che ha portato il ciclismo alle stelle io l'ho conosciuto personalmente era una bravissima persona penso un timido era molto estroso ovviamente credo che non sia stato capace di gestire quello che si era creato intorno a lui senza entrare in polemiche dopo Madonna di Campiglio e via dicendo era un corridore che dava spettacolo e che è uno di quelli pochi campioni che sono stati in grado di portare a guardare il ciclismo anche le casalinghe la gente che il ciclismo non l'avrebbe mai guardato e sicuramente ha fatto tanto per il ciclismo perché quando la gente guardava il ciclismo per vedere Pantani vedeva anche Savoldelli o vedeva anche un altro e nel ciclismo come nel motociclismo è stato Valentino Rossi con lo sci Alberto Tomba ovviamente questi campioni sono quelli che hanno fatto fare un salto di qualità enorme allo sport che praticavano Giorgio uno ti ha scritto direttamente a te Gabriele Ragni che vuole sapere che bici aveva il falco da bambino da piccolo ti ricordi il marchio della bici che usavi? il marchio della bici di cosa? la tua prima biciclettina quando a quando hai iniziato a correre? a che età? la mia prima bicicletta? sì ma allora la mia prima bicicletta da corsa era una Morotti che ce l'ho ancora a casa perché mio padre è l'acquata prima avevo avuto una piccola biciclettina con le rotelline c'ho qualche fotografia ma la mia prima bici da corsa a 5-6 anni è stata una Morotti io ho iniziato a correre però a 14 anni un po' dopo e sono molto contento di averla e cosa che ti ha fatto scattare la scintilla per iniziare a correre in bici? a me mi ha portato a correre in bici mio padre andava in bicicletta aveva fatto qualche gara amatoriale mi portava sempre in bici io ero un agonista andavo sempre in bicicletta con lui un giorno abbiamo incrociato una gara ciclistica casualmente il ragazzino con il direttore sportivo si sono fermati vicino a noi perché aveva bucato una gomma il cambio ruota non c'era perché sai che nelle categorie giovanili cambi la gomma non c'è il cambio gomma ti ritiri e parlare con il direttore sportivo portalo portalo e via la rovetta avevi iniziato quindi le prime pedalate tu sei di rovetta giusto? puoi ripetere? dico sei di rovetta dico la prima pedalate era immagino delle tue parti insomma era la società penso di rovetta non capisco no chiedeva intanto ti salutano da tutta la Val Seriana ci sono tante persone che ci stanno scrivendo da rovetta Val Bondione ti salutano io non riesco più a capirvi continua a saltare la linea vediamo se riusciamo a mettere un'immagine una foto mettiamo una il commento vedo che non riesce neanche a leggerli probabilmente troppo offuscato però scrivi su whatsapp ci senti Paolo? no sto usando il telefono ci senti Paolo adesso? Paolo? no proviamo a togliere se tolgo il mio video però non sparisce anche l'audio non posso toglierlo facciamo l'ultima domanda si facciamo fare l'ultima domanda? Paolo se parlo così mi senti meglio? sempre sempre a colpo sempre a colpo ok comunque se riesci a sentire c'è una domanda carina che era tipo di Carlo Fusco se non fossi diventato un ciclista cosa ti sarebbe piaciuto fare? adesso devo prendere il carica batterie perché io sono quasi senza batteria e oggi va così oggi si può stare il bello della diretta ragazzi guardate pazienza non sempre la connessione può essere a bomba sì c'è stato un problema col pc quindi sta facendo la diretta col telefono e sul telefono fa fatica a vedere anche le domande oltre che a avere problemi di connessione quindi fa fatica a sentirle da noi purtroppo è così Roberto Greco dice mandate la pubblicità magari tra l'altro hai detto di rovetta mia moglie è di rovetta ma io volevo chiedegli qualcosa per quello volevo arrivare a quello Brambo era tutto creato per arrivare a quella scollegato proprio speriamo che rientri mi ha fatto impressione il secondo giro d'Italia quando noi sappiamo quanto è complicato vincere un giro e quanto serve la squadra per vincere un grande giro e lui si è preso una maglia rosa non so quanti giorni dalla fine senza squadra è riuscito a portarla sulla casa è una roba pazzesca poi ha detto che tutti i giorni deve stare attento alle imboscate ha preso la tredicesima tappa ci senti meglio Paolo dimmi ti senti meglio adesso voi mi sentite sì perfetto vai Giorgio adesso provate a parlare ok no volevo chiedevano alcune persone ti salutano da tutta la Valseriana da Colere da Rovetta al Bondione e mia moglie di Rovetta quindi una delle prime cose che ho detto a Martina quando l'ho conosciuta mi ha detto che è di Rovetta ah come il Falco Saul Del e quindi è la canzone la canzone e tra l'altro tra l'altro ma tra l'altro l'insegnante di musica dell'elementare di mia moglie è la mamma del Bepi che ha fatto la canzone sul Falco Saul Del quindi c'è un thread union incredibile ma diciamo che c'era un cantautore delle nostre zone che cantava in Bergamasco che ha fatto degli anni dove ha avuto parecchio successo nel mentre io ho vinto il Giro d'Italia e lui ha scritto una canzone su di me tra l'altro che è molto bella secondo me a parte forse il pezzo che canto io perché sicuramente il canto non è una delle mie doti potresti rifarcelo il pezzo Paolo se lo puoi anche rifare in diretta mi sa di no ho sentito io vi sento sempre male direi che forse è meglio che chiudiamo qui tranquillo va bene grazie mille Paolo ti ringraziamo peccato per la connessione ma hai detto tante cose molto interessanti veramente quindi ti ringraziamo tanto grazie Paolo bene grazie a voi alla prossima ciao 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 ok salutiamo peccato perché non è colpa nostra purtroppo la connessione era così la nostra è buona comunque la nostra procede sì sì ovviamente è andata un po' così va bene qualcuno deluso comunque ha un po' di domande ha risposto no no assolutamente secondo me sono stato veramente felice di sentire tanti aneddoti vuol dire che l'occasione per fare un'altra un'altra live più avanti quando magari avremo una connessione ottima magari anche dal vivo quando potremo incontrarci visto che è bergamasco si può anche trovare esatto noi abbiamo comunque un punto di incontro di trovo a Bergamo sarebbe carino fare qualcosa con lui assolutamente magari è una puntata sulla discesa è molto là è sarebbe veramente fantastico è una puntata sulla discesa con Paolo sì e poi ti ha anche spiegarci le cose dal suo punto di vista gli spunti tecnici che ci possono essere quindi Ricky dice rifai la crisi di fame la rifacciamo la rifacciamo sì assolutamente quando può girare senza problemi è in cantiere è in cantiere Matteo dice è una scusa per non cantare andiamo no no è proprio è un peccato perché tra l'altro lui si sentiva bene però ovviamente se non sentiva le nostre domande col telefono non riusciva nemmeno a vedere i messaggi probabilmente era tutto sgranato quindi è andata così va bene dai ragazzi salutiamo anche noi buona serata esatto mi raccomando stiamo arrivando vicini ai 100.000 iscritti e sarebbe bello riuscire a festeggiarle come si deve quindi fate iscrivere tutti i vostri amici che non sono ancora iscritti o scrivetevi ancora voi se non l'avete ancora fatto che vogliamo arrivarci il prima possibile quindi mi raccomando per i 100.000 io dovrò mantenere una promessa esatto faremo qualcosa di speciale la puntata di puro intrattenimento un saluto alla prossima ciao ciao a tutti ciao ciao ciao